Amici di TecnoAndroid.it, siamo qui pronti per la prova video dello Yashi MySmart OS 5.0 Prova in full HD, vediamo come si comporta in questa toleggiata giornata piemontese Molto molto buono, i colori sono molto buoni, nonostante la luminosità Facciamo uno zoom 4x, che è perdo ovviamente di qualità ma che comunque resta abbastanza visibile La fotocamera vi ricordo che è da 13 megapixel, quindi le foto come possiamo vedere anche nella prova fotografica sono molto molto buone Muoviamoci velocemente, adesso è fuoco rapida, direi che passa molto bene il test e che si comporti veramente molto molto bene Questo è tutto amici di TecnoAndroid.it, per voi Antonio Russo